Gli atti mancati, le dimenticanze, i lapsus sono azioni che hanno sempre in qualche modo affascinato la psicologia e l'analisi anche delle azioni delle persone, dell'azione inconsce delle persone. Oggi vorrei farvi riflettere sul ritardo. Avete mai pensato al fatto che il ritardo possa essere un atto di rifiuto? Un modo per dire non mi va di stare qui, un modo per dire non ti voglio vedere, un modo alternativo per mostrare disinteresse o non curanza per una persona, per un lavoro o per un impegno, un modo per sottolineare anche la propria voglia di trasgredire alle regole. E se invece, al contrario, il ritardo dipendesse solo ed esclusivamente dal nostro carattere o dalla semplice incapacità nella gestione dei propri tempi? Sì, in effetti queste sono tutte, quelle che ho elencato, sono tutte cose plausibili, sono tutte possibilità plausibili. Ma voi ve lo siete mai chiesto? Sì, veramente ha un significato il ritardo per voi. Vi definite ritardatari o puntuali? E se lo siete? Quanto siete ritardatari? E in che modo fate ritardo? E quando fate ritardo? E mi siete mai chiesti se i vostri ritardi a questo punto possono avere un significato? Bella domanda.